Che caldo! Amici di Poker Factor, siamo all'aeroporto di Malpensa per partire, per andare a Las Vegas, per commentare nei prossimi 15 giorni l'Evusop 2009, il main event dell'Evusop. Abbiamo già incontrato qualche giocatore italiano che sta partendo anche lui oggi. Nel specifico abbiamo incontrato Francesco Di Vivo che però farà scala ad Atlanta. Noi faremo scala a New York e poi saremo a Las Vegas questa sera. Gunter Solo che stava facendo la foto in questo momento, adesso si rifà il trucco. Lady Poker, che la vediamo qua, manda i bacini. E siamo andati a casa. Dietro la telecamera c'è Nanadia, che ve la ricordate, all'Univet Open. E noi faremo dei collegamenti spot, Gunter. Degli scorsi, dell'impazzata. Faremo delle incursioni, delle incursioni durante la nostra speduzione e poi tutti i video che andremo a realizzare a Las Vegas per le varie situazioni. Vi diamo appuntamento tra poco. Grazie a tutti. Anche sul forum. Anche sul forum, anche sul sito, su Poker Fattor TV, su Facebook e sui siti partner. Chiunque voglia avere dei contenuti da noi può averli. Grazie a tutti. A presto. Ciao.